Benvenuti su Unica Channel, subiterete l'edizione Flash del WebTG. Amici di Unica Channel, buongiorno e bentrovati all'edizione Flash di mercoledì 11 aprile. Apriamo con la politica, fischi per il Senatur, ieri alla giornata dell'orgoglio padano a Bergamo. Scusatemi per i figli, sono state queste le parole di Umberto Bossi alla base della Lega Nord per i danni fatti al partito. Piange invece Rossi Mauro, la vicepresidente del Senato, che avverte di non dimettersi. E la risposta da parte di Roberto Maroni, l'ex ministro dell'Interno, cacceremo lei e Belsito. E annuncia intanto il congresso federale a giugno. La manifestazione si è conclusa con il va pensiero cantato con la mano sul cuore da dirigenti e militanti. E passiamo alla cronaca. Il comandante della nave Costa Concordia, Francesco Schettino, resta agli arresti domiciliari. La Cassazione ha confermato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze che ne disponeva la custodia cautelare a casa. Ed è stato rigettato così sia il ricorso della procura che quello della difesa. E a Napoli oggi partono le prime regate, valide per la fase preliminare della Coppa America. Sarà il presidente della provincia Luigi Cesaro a dare il via. Ed è subito caccia ai posti in prima fila per lo show. E voltiamo pagina, passiamo all'estero. India, Paolo Bosusco, uno dei due marò italiani rapiti in India, sarà rilasciato attraverso un processo democratico. A rendere nota la notizia è stato il leader dei maoisti, Panda, attraverso un audio messaggio citato dall'emittente NDTV. Panda comunica anche di aver ricevuto una copia del documento attraverso il quale il governo ha dichiarato di assumersi impegni volti a facilitare il rilascio di Bosusco. In America Rick Santorum abbandona la corsa alla Casa Bianca, spianando così la strada alla nomination di Mitt Romney, come l'anti Obama. E passiamo allo sport, calcio nella lotta per lo scudetto, il Milan vince contro il Chievo e torna primo in classifica. La Juventus ha così perso il primato, ma stasera scenderà contro la Lazio. La Roma contro l'Udinese e Napoli scenderà in campo contro l'Atalanta. Ma Zari intanto dice, questa squadra è viva, ci serve il riscatto. E questa è l'ultima notizia, vi ricordo l'appuntamento a partire dalle 15.30 con l'edizione completa. Auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.